La storia che viene insegnata a scuola è reticente quando non falsa. Reticente perché non parla delle donne per lo più, tranne le regine, qualcuna così, qualche eroina famosa appunto. E le donne sono la maggioranza della popolazione del pianeta, quindi taglia fuori più di metà della gente che è campato e campa. E sembrerà strano ma se dovessero decidere per una generazione di non fare figli finisce il mondo, punto. Non è un potere da poco, insomma. Non si capisce perché non venga mai trasmesso anche come potere, anche come componente comunque della continuità della storia umana. Che non è, va bene la provvidenza, d'accordo, ma insomma l'idea di un Dio affacciato sempre che si sta sui metti in cinta, quella lì, quella lì, quella lì, così, così. Riusciamo a far campare di più l'umanità mi fa un po' ridere. Trovo che non tenere in considerazione l'originaria differenza impoverisce la conoscenza, non la aumenta.